Allora, innanzitutto, un po' di emozione, vedo una platea assolutamente piena e gremita, abbiate pazienza se mi sentirete un pochino emozionato. Un grande saluto a tutti voi, da parte mia, che sono il presidente della Rotary Club di Riva del Garda, e da parte di tutti i miei soci. Un grosso ringraziamento innanzitutto al professor Luigi Fontana, che ha voluto dedicarci tempo, ha lasciato i suoi studi negli Stati Uniti, ha lasciato Brescia ed è tornato nella sua riva per essere qua con noi questa sera a fare questa conferenza. Grazie di cuore. Il professor Luigi Fontana è professore al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università dei Studi di Brescia, nonché professore al Department of Medicine della Washington University in St. Louis, in Missouri. Finisco qua la sua presentazione, che sarebbe troppo lungo citare tutti gli articoli e tutte le referenze di letteratura che fanno capo al professor Luigi Fontana. Un secondo ringraziamento va al sindaco, che ha permesso questa joint venture anomala tra Rotary e Comune. Noi ci siamo presentati un giorno in Comune e abbiamo detto al signor sindaco che ci piacerebbe riorganizzare questa serata, che era già stata organizzata a luglio dell'anno scorso, e il sindaco ci ha detto sì, va bene, voi mettete le energie e organizziamo come Rotary e Comune di Arco, organizziamo la serata. Per cui innanzitutto un grosso ringraziamento all'ingegnere Alessandro Betta. Un grosso ringraziamento anche all'Ordine dei Medici, che questa sera è qui con Carlo Petrolli, che è il dirigente del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'ospedale Santa Chiara di Trento. e grazie all'Ordine dei Medici che ha voluto darci il patrocinio. Tanti di voi forse si chiederanno perché stasera, perché proprio Rotary che viene a organizzare una serata su nutrizione, su argomenti di medicina, eccetera. Rotary è da sempre che si occupa di solidarietà e di servizio alla popolazione, soprattutto attraverso il suo braccio operativo, che è la Rotary Foundation, col quale di solito ha cinque obiettivi che si prefigge, che sono pace e prevenzione dei conflitti, prevenzione e cura delle malattie, e qui entra la serata che facciamo questa sera, acqua e strutture sanitarie, salute della madre e del bambino e alfabetizzazione ed educazione di base. La Rotary Foundation è il braccio operativo della Rotary a livello internazionale ed è quella che eroga service dai più piccoli, per cui può essere la costruzione di pozzi, l'aiuto a popolazioni che hanno comunque bisogno di essere aiutate, il cui service più grande, io lo chiamo il service con tutte le maiuscole, è l'endpoglio, l'endpoglio now. Questo pensate, è un service nato 30 anni fa, dalla solitamente fervida di due italiani, che come al solito hanno le idee e poi devono comunque, in qualche modo se ne parlava con Luigi ieri sera, andare all'estero e migrare per poter concretizzare i loro sogni. Questi due colleghi tornano da un viaggio penso in India e nei paesi dove allora la polio era endemica, si parla di 350.000-500.000 casi di polio all'anno, la propongono al distretto, la propongono a Rotary Italia, di lì va a finire ad Evanston, che è la sede centrale della Rotary Foundation, e di lì parte Endpolio. Endpolio è un service che ha investito assieme alla Bill e Melinda Gates Foundation un miliardo e 500 milioni di dollari ed è un progetto che ha come scopo l'eradicazione della polio. Si è passati in 20 anni da 350.000 casi a 12-13 casi annuali e speriamo di arrivare all'eradicazione completa della malattia nei prossimi anni, che è quello che è successo tanti anni fa col vaiolo, se voi vi ricordate quelli che hanno i capelli bianchi come me hanno fatto l'antivaiolosa, il vaiolo ormai non esiste più perché è una malattia debellata grazie alle vaccinazioni. Ecco, vorrei che a Rotary fosse ricordato più per queste cose che non per la sua parte di convivialità, che peraltro fa parte anch'essa dello spirito del club, non si può negare. Però mi piacerebbe che fosse ricordato proprio più per queste cose, anche per un service come questo che stiamo facendo stasera, che è un service per la popolazione, un service di informazione medica, si parla di prevenzione, di stili di vita, di well aging, come dice Luigi, di invecchiare bene e di cercare di farlo nel migliore dei modi possibile senza patologie croniche. E questo direi che vorrei che fosse nella mia annata, ma in generale quello che rimane del Rotary alla popolazione, per togliere un pochino quello che è il solito stereotipo del Rotariano, convivialità, cene e tutto sommato nulla più. Ecco, io direi che la mia presentazione è finita, vi ringrazio ancora di essere qui, siete tanto numerosi, scusate un pochino l'emozione che sicuramente avvertite nella mia voce. Grazie mille e passo la parola al sindaco di Arco, ingegnere Alessandro Betta. Grazie. Buonasera a tutti, davvero con piacere che questa sera sono qua, che mi sento di dare il benvenuto a nome dell'amministrazione comunale e di tutti i cittadini della nostra comunità, il dottor Luigi Fontana. Ha ricordato un po' di storia prima, io sono andato a riprendermi la locandina da cui siamo partiti e si parla di giovedì 16 giugno e quel giovedì 16 giugno l'amministrazione comunale ha fatto una cosa semplice che era quella di fare quello che dice sempre, costruire comunità. Costruire comunità è una parola che vuol dire tutto, anche niente qualcuno vorrà dire. Costruire comunità vuol dire però trovare quelle ricette che non sono semplici, che non sono banali per dare delle risposte alle cittadine e ai cittadini. Questo noi facciamo tutti i giorni, qualche volta ci va male, magari le persone non capiscono, non recepiscono quello che si sta facendo, qualche volta va meglio e il risultato che vedo qua questa sera è il risultato di un successo, vi dico perché. Intanto c'è qua una sala gremita che è venuta ad ascoltare quello che è una delle tematiche che fa parte della nostra vita, talvolta ci perdiamo di vista perché viviamo, tra virgolette, ci lo perdiamo di vista perché siamo arrabbiati, infelici, quando invece il senso della vita è essere felici, la ricerca della felicità. So che può sembrare una banalità quello che dico, però le società occidentali, e ve lo avevo già fatto l'esempio e ve lo ripropongo, molto spesso c'è un modo strano di vivere, c'è quasi un'infelicità. Invece voi se guardate altre società, vedete dei bambini che sorridono, che a volte uno viene da chiedersi cosa c'è da sorridere, che stai vivendo nella miseria, nella fame. Queste sono le domande che noi possiamo farci e quindi abbiamo la necessità di trovare anche modi di seguire questo filone della felicità. Come si fa? È complesso, però sicuramente l'alimentazione è uno di quei filoni, il dormire, i rapporti sociali. Allora, chi amministra il sistema democratico è il migliore di quelli che finora abbiano inventato, si deve occupare anche di questo, cioè di provare a dare delle risposte. Il dottor Fontana l'altra volta ha detto una cosa interessante, che parlava del costo del sistema sanitario e quanto costerebbe prima di arrivare alle cure. Quindi noi come amministrazione ci siamo andati a questo obiettivo, abbiamo detto andiamo a cercare in quello che è una delle tematiche del comune di Arco, del Garda Trentino, cos'è che ci caratterizza, cosa sono i cartelloni quando si entra nella nostra città. Città di cura e benessere, non l'abbiamo inventato noi, ci deriva da un passato, da un passato glorioso che ha dato a questa città, a queste comunità, ha dato quello che oggi per noi è presente e che sarà futuro. Che ha dato cosa? La cura, il soggiorno, i posti che sono belli, l'alimentazione. E allora ripartendo da quello abbiamo detto andiamo a prendere una delle tematiche che è nostra, che è questa, abbiamo la fortuna di avere un luminare che è un concittadino e andiamo a analizzarlo, poi porteremo altri temi. E siamo partiti da lì con quella serata del 16 giugno. Poi per strada il Rotary ha avuto l'idea come la nostra e noi, io dico che è molto facile demolire, distruggere, per costruire una casa quanto ci vuole, se va bene un anno, per distruggere basta una giornata. Costruire è complesso. Il Rotary è venuto, ha detto vorremmo fare questa cosa, ha detto siamo qua tutti insieme, andiamo avanti e questo è il risultato. Quindi io sono emozionato, però sono soddisfatto questa sera, perché si parlerà di una tematica che per noi è futuro, per noi è dare input positivi e c'è qua una sala, c'è qua una comunità che è pronta a ascoltare non me, non siete venuti per me, ma siete venuti per il dottor Luigi Fontana, a cui quindi va il mio applauso e il vostro applauso è benvenuto. Grazie. Allora, passo la parola al dottor Carlo Pedrolli, che è qua in qualità anche di rappresentante dell'Ordine dei Medici, nonché responsabile del servizio di nutrizione e alimentazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento, che ci fa una piccola presentazione anche lui. C'è una cosa molto breve, innanzitutto porto i saluti dell'Ordine dei Medici al relatore, che è un nostro iscritto, e a tutta la popolazione. Io faccio il dietologo, quindi mi occupo, sia pure a un livello molto diverso dal dottor Fontana, di questi argomenti o di alcuni di questi argomenti. Quando ho visto la tua produzione scientifica e ho visto anche il giudizio che su di te ha dato la commissione che ti ha messo in cattedra, che oltre ad averti riconosciuto un curriculum assolutamente eccezionale, ha parlato di doti e di leadership eccezionali, tra l'altro uno dei commissari è una persona che conosco molto bene, per cui mi ha fatto ancora più piacere. Il ruolo di questi ricercatori è quello un po' della Formula 1. Noi siamo delle buone utilitarie, abbiamo bisogno della Formula 1 perché quella elabora delle proposte, delle idee, che purtroppo noi riusciamo ad applicare sempre un pochino dopo e quindi il significato anche di conoscersi e di trovarsi è quello proprio di riuscire a dialogare. Voi siete molti anni avanti, noi vediamo le persone e dobbiamo cercare di colmare questo gap e penso che vedersi e conoscersi sia un modo veramente utile. Devo anche dirvi, io non so bene di cosa vi parlerà, credo vi parlerà della restrizione calorica perché almeno questo è uno dei cavalli tuoi di battaglia. Quando ho letto che ti occupi questo argomento ho pensato a uno dei miei maestri di libri che è Sir Ansel Keys, che ha scritto The Physiology of Human Sturvation, che è un libro fondamentale per ogni dietologo e che sono sicuro abbia costituito fonte di tue riflessioni notturne e che ti abbia portato a elaborare parte delle tue teorie. Io quindi non posso far altro che congratularmi per il tuo curriculum e ascoltarti con molto interesse. Complimenti. A questo punto io do la parola a professor Luigi Fontana, prego. Grazie, vediamo le danze. E' veramente un piacere essere qui, emozionante, un sacco di amici, compagni di liceo, un sacco di persone con cui ho perso veramente dei momenti felici. Allora, a differenza dell'altra volta che ho parlato prevalentemente di nutrizione, questa volta vorrei raccontarvi qualcosa di un pochettino più complesso. Questo è l'outline delle tematiche che cercherò di affrontare. È chiaro che non avrete qualcosa, è difficile andare nel dettaglio di queste cose, quindi scusatemi se farò fondamentalmente, sarò un po' sintetico su alcune parti. Comunque, insomma, le domande a cui cercheremo di rispondere sono quali mezzi abbiamo a disposizione per ridurre il rischio di ammalarci. È possibile? Non è possibile? Cosa dobbiamo fare se vogliamo aspirare a vivere una vita lunga, sana e felice? In quale attività potremo investire il nostro tempo e le nostre energie per arricchirci e potenziare la nostra intelligenza intuitiva, emotiva e creativa? Iniziamo con una prima domanda, che poi è quella che un po' mi ha spinto a iniziare a fare ricerca, da medico a diventare ricercatore. Il nostro rischio di ammalarci è puramente stocastico. Cioè, come dicono alcuni, è sfortuna. Uno si ammala perché è sfortunato, cioè non perché fa delle cose scorrette. E l'altra domanda è, è possibile vivere una vita lunga senza ammalarci? O non c'è niente da fare? Cioè, siamo come delle macchine che pian piano si usurano e prima o poi ognuno di noi si deve ammalare di qualche malattia. Allora, vi faccio vedere velocemente alcuni dei modelli sperimentali che stiamo studiando che ci dicono chiaramente che la malattia nei mammiferi, e noi siamo dei mammiferi, non è inevitabilmente associata all'invecchiamento. Questo bruttissimo ratto, si chiamano naked mole rats, sono dei topi, dei ratti, non dei topi, che vivono sottoterra. Mentre un toporino vive all'incirca due anni e mezzo, un ratto e un toporino vivono due anni e mezzo, questi ratti vivono 28 anni, dieci volte di più di un normale roditore, perché questi qua sono dei roditori. E la cosa fantastica è che non sviluppano nessuna malattia. Cioè, arrivano fino a due o tre mesi prima della morte, a quel punto iniziano ad avere qualche disturbo, ma non sviluppano nessuna malattia. L'altra cosa affascinante è che gli possiamo buttare addosso plutonio radiattivo e non sviluppano cancro. Sono completamente resistenti al cancro. E sono uno dei modelli che stiamo studiando per capire come mai, quali sono i segreti molecolari che spiegano come mai questi animali sono super longevi, super sani e totalmente protetti dal cancro. Un altro modello che stiamo studiando è la restrizione calorica, perché un terzo di questi animali che mangiano di meno, un 30-40% in meno, muore in tardissima età senza nessuna malattia. Quando andiamo a fare l'autopsia ci sono delle piccole lesioni, ma non sono la causa di morte. Quindi di nuovo suggerisce che è possibile non ammalarci, vivere a lungo senza ammalarci. Questo è un altro modello genetico. Noi al giorno d'oggi possiamo manipolare dei geni, possiamo togliere un gene o aumentare l'espressione di un gene e andare a vedere cosa fa quel gene. Questi animali sono degli animali a cui abbiamo tolto il recettore per l'ormone della crescita. vivono fino al 50% in più e il 50% di questi non sviluppa nessuna patologia, muore in tarda età senza nessuna patologia. Quindi di nuovo abbiamo tre modelli che ci dicono la stessa cosa. È possibile. Parte della mia ricerca è capire quali sono i meccanismi, perché sono stra-affascinanti capire come mai questi animali riescono ad evitare le malattie. E sappiamo che il 20% dei centenari sono escapers, non sviluppano nessuna patologia prima dei 100 anni. Quindi anche nell'uomo biologicamente è possibile vivere una vita lunga senza ammalarsi o ammalandosi negli ultimi 2-3 anni della vita, che poi è quello che a noi medici interessa nella sanità, cioè comprimere la morbidità. Invece di stare 30-40 anni con diverse malattie con farmaci, ridurre la morbidità nell'ultima fase della vita. Parlando di centenari, voi sapete che esistono tre o quattro posti nel mondo, si chiamano blue zones, in cui c'è una percentuale di centenari particolarmente elevata. A già oggi abbiamo tanti centenari di distribuiti random in giro per il mondo, ma in alcune zone, tipo Okinawa in Giappone, in Sardegna, in alcune leggi della Sardegna, a Dicaria in Grecia e a Loma Linda in California, c'è un numero particolarmente elevato di centenari in queste popolazioni. E quello che hanno in comune queste popolazioni sono alcuni fattori di cui poi parleremo durante la presentazione. Uno è che tendono a mangiare un pochettino di meno di quello che mangiano le persone normali. L'altra è che ha una dieta prevalentemente vegetariana, anche se non è esclusivamente vegetariana, ma è prevalentemente vegetariana. Fanno molta attività fisica, però costante, non maratone. Hanno una vita con un basso lodo di stress, con la natura. Un forte senso di attaccamento alla famiglia, cioè sono famiglie in cui c'è il bisnonno, il nonno, il nipote, il pronipote che vivono assieme e si supportano l'un l'altro e tutti hanno una certa forte spiritualità, fede che li contraddistingue. Poi parleremo di questi argomenti. La cosa interessante è che queste persone che vivono a lungo e felici, vedete che hanno una concezione della vita particolare. Vedete, questo è un detto che c'è scritto, è inciso su una roccia a Okinawa. A 70 anni non sei altro che un fanciullo, a 80 sei a malapena un giovane e a 90 se i vostri antenati vi invitano in cielo, chiedete loro di attendere fino a quando avete 100 anni, solo loro potete forse pensarci. Ok, iniziamo adesso a entrare nel dunque dei vari fattori che pensiamo, perché stiamo ancora studiando, non sappiamo con esattezza, è molto complicato capire come invecchiamo, perché invecchiamo, quali sono i fattori che determinano le malattie. Sicuramente c'è un consensus totale che essere sovrappeso, soprattutto avere un aumento della circonferenza vita, è un fattore deleterio per la salute e per la longevità. Vedete, il sovrappeso dell'obesità è associato a tutte le malattie di cui sono pieni i nostri ospedali, diabete, malattie cardiovascolari, tumorali, il fegato grasso, alcune delle più frequenti forme di tumori, ictus cerebrale, via dicendo. Del grasso, il grasso non è tutto uguale, quello che è più dannoso è quello centrale, quello che si deposita a livello della vita. Il grasso che si deposita nei glutei è un grasso che diciamo metabolicamente poco attivo, quello veramente dannoso è quello centrale. Vedete, questa è una fetta tac dell'addome, questo bianco qui è il grasso viscerale di una persona normale, magra, e tutto questo bianco qui è il grasso di una persona obesa, tra i visceri. Quello non è aria, come dice qualcuno, ah c'ho l'aria nella pancia, no, quello è grasso. E quello che abbiamo scoperto negli ultimi anni è che quando noi mangiamo troppo, l'eccesso calorico si deposita negli adipociti che si allargano, diventano ipertrofici e iniziano a produrre degli ormoni. Pensate che fantastico che è l'organismo, cioè le nostre cellule adipose producono degli ormoni che rilasciano in circolo, che si chiamano adipochine, che hanno tantissime funzioni, regolano il sistema immunitario, regolano la nostra predisposizione a sviluppare diabete, ipertensione, cancro, ma soprattutto il grasso ipertrofico, quando avete la pancia, il grasso, quella è una fonte cronica di infiammazione, cioè il tessuto adiposo produce molecole infiammatorie che vengono rilasciate e l'infiammazione è un fattore di rischio per malattie cardiovascolari, tumorali, demenza e invecchiamento. Quindi ricordatevi che quando avete la circonferenza vita aumentata siete infiammati e avete tante altre alterazioni. Tant'è vero, vedete questo qua è un paper poiato su Circulation, una rivista molto importante, che indipendentemente dal vostro peso, all'aumentare della circonferenza vita aumenta il rischio di morire di malattie cardiovascolari e di malattie tumorali. Quindi insomma bisogna cercare di mantenere l'addome piatto e se avete la circonferenza vita aumentata ricordatevi che ogni centimetro che perdete state facendo una cosa fantastica. Quindi più che andare a controllare il peso controllatevi la circonferenza vita e ogni volta che perdete un centimetro di circonferenza vita congratulatevi perché avete fatto qualcosa di eccezionale per la vostra salute e questo l'abbiamo già dimostrato. Quali sono gli interventi per mantenere un addome piatto? Sicuramente la restrizione calorica di cui parleremo, il vigino intermittente di cui parleremo, il time restricted feeding, che poi vi spiegherò cos'è, una cosa che stiamo studiando molto interessante, e l'esercizio fisico di cui parleremo. Allora, Ippocrate, sapete chi è Ippocrate, non lo dovevo dire, padre della medicina occidentale, diceva se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute. Dall'altra parte dell'oceano, in Asia, una delle regole che seguivano i giapponesi e i cinesi era quello che viene chiamato hara hachi bummi, che significa ingerisci il cibo fino a che sei pieno al 70%, cioè non alzarti mai dalla tavola che non ce la fai più a mangiare un altro boccone, fermati molto prima, fermati prima quando c'è ancora un po' di appetito, cioè praticamente è una forma di restrizione calorica. Se guardate su Google e digitate longevità, troverete restrizione calorica, perché la restrizione calorica è il modello più importante per studiare la longevità che esiste in natura, cioè noi ogni volta che riduciamo del 20, 30, fino al 40% l'introito calorico senza malnutrizione, con tutte le vitamine e le saline minerali, gli animali vivono fino al 50% in più, cioè significa che invece di vivere 80 anni, per un uomo, ne vivono 140. Non solo vivono di più, ma sono protetti dal cancro, dalle malattie cardiovascolari, dalle malattie del rene e dalla demenza. E esperimenti che stiamo facendo nelle scimmie, alcuni colleghi miei a Baltimore e a Madison Wisconsin, dimostrano che anche nelle scimmie, nei primati non umani funziona. Vivono più a lungo, le scimmie in restrizione calorica, sono completamente protetti dal diabete, hanno una riduzione del 50% del rischio di sviluppare cancro, malattie cardiovascolari, hanno meno degenerazione, meno atrofia cerebrale e perdono meno massa muscolare, meno sarcopenia delle scimmie che hanno libero accesso, che mangiano quanto vogliono.